Pronto? Non devi mai rispondere al telefono. E allora perché mi chiami? Hai comprato vestiti? Sì, ce l'ho qui. È da cocktail. Bene. Sarò nell'atrio dell'albergo alle sette e mezza in punto. Perché non vieni a prendermi su? Sono affari, non appuntamenti. A proposito, dove mi porti? Ti porto in un ristorante, si chiama Il Voltaire. È molto elegante. E va bene. Giusto perché sono pagata, vengo giù io nell'atrio. Oh, grazie, non ho parole. Me la richiama, per favore? Il signor Stacchi vuole vederla. E gli dica che sto facendo una telefonata molto importante. Pronto? Ti avevo detto di non rispondere. E allora tu smetti di chiamarmi? Che malta.